Buongiorno e benvenuti al nostro approfondimento settimanale sul calendario macro e sui dati più importanti della settimana. Vediamo subito sulla sinistra il calendario completo filtrato per i dati macro più importanti, quelli contrassegnati da tre pallini rossi divisi per giorni. Questo è il calendario di Reuters disponibile sulla nostra piattaforma e a destra i dati selezionati da andare a mettere in calendario per il nostro trading. Il primo dato tra quelli ancora non resi noti il più importante di oggi è ordini totali, gli ordini industriali negli Stati Uniti. La previsione è meno 0,6 quindi un dato negativo, vedremo che cosa succederà durante il pomeriggio. Poi per la giornata di oggi abbiamo finito, per quanto riguarda invece domani ci sarà solamente un dato australiano sulle costruzioni che non abbiamo riportato qui nel nostro piano dei dati macro più importanti e poi cominciamo invece con la giornata di mercoledì che sarà di sicuro la giornata più intensa perché quella più carica di dati ed eventi. Abbiamo infatti innanzitutto mattina presto dati giapponesi sono all'1.50 di notte, ce ne sono due annuale mensile che riguarda un indice sull'inflazione, un indice particolare giapponese che non va sull'inflazione al consumo ma piuttosto alla produzione e poi c'è un ordine quindi importante per il Giappone la mattinata del mercoledì. Poi abbiamo un paio di dati cinesi, dati cinesi fondamentali in queste settimane perché siamo vicini probabilmente finalmente a qualche accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti quindi insomma siamo prossimi finalmente a raggiungimento di un accordo storico. Al momento però i dati cinesi hanno mostrato un po' di debolezza proprio per la guerra commerciale che c'è stata finora. Poi avremo uno dei dati più importanti per il Regno Unito ovvero il PIL GDP per il Regno Unito quindi sempre mercoledì. I dati nel Regno Unito sono importantissimi sia perché insomma è una delle economie più importanti del mondo ma anche perché si trova all'interno di un percorso, quello della Brexit fondamentale e a ridosso ormai delle nuove scadenze perché la prima scadenza era il 29 marzo, adesso ci sarà un'altra scadenza il 12 di aprile. Apriamo una piccola parentesi sulla Brexit, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni però sempre mercoledì quindi ancora una volta la giornata più importante della settimana, almeno per questa settimana si terrà probabilmente un summit europeo che dovrà decidere su che cosa fare con la scadenza del Regno Unito, se prolungarla oppure no. Il Regno Unito vorrebbe un'estensione della scadenza di qualche settimana, non una scadenza però troppo in là per evitare comunque le elezioni di fine maggio. Ora vedremo che cosa succederà perché da una parte d'Europa vorrebbe sì concedere l'estensione però un'estensione più lunga per il Regno Unito, il Regno Unito invece vorrebbe sì un'estensione per evitare il no deal però non vorrebbe un'estensione troppo lunga per evitare di dover fare delle elezioni europee e quindi delle elezioni per qualcosa su cui non vogliono poi entrare. Avremo anche la produzione industriale del Regno Unito e soprattutto uno dei dati fondamentali del mese e ovviamente il più importante della settimana, annuncio tasso di interesse per quanto riguarda la zona euro, quindi la BCE che fa l'annuncio del tasso di interesse e ovviamente il classico meeting con i giornalisti a seguire. Poi indice dei prezzi al consumo per gli Stati Uniti e le riserve di greggio. Riserve di greggio che vediamo un attimino il grafico che cosa è successo, guardate come si alternano dati positivi di scorte negative o positive da una settimana all'altra, tra l'altro c'è il prezzo del petrolio che è sui massimi di periodo dopo che l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio ha reso noto di avere ridotto la produzione di petrolio ai minimi degli ultimi 4 anni, quindi insomma una notizia positiva per il prezzo del petrolio. Passiamo alla giornata di giovedì, uno dei dati più importanti sicuramente è l'inflazione per la Germania, poi ci sarà anche l'inflazione per la Francia, in entrambi i casi un dato previsto al ribasso dall'1,7 per la Germania a 1,4, 1,6 per la Francia nel dato precedente e previsione 1,3 e poi sul sito di disoccupazione nel classico dato del giovedì è un dato settimanale che va a misurare quanti nuovi sussidi di disoccupazione sono stati presentati di settimana in settimana per misurare un attimino qual è lo stato di salute del mercato del lavoro. Finiamo poi ancora con la Cina, variazione percentuale delle importazioni e delle esportazioni, come dicevamo prima il tema del commercio tra Cina e Stati Uniti è stato centrale in questi mesi, andiamo a vedere che cosa è successo storicamente all'interno dei grafici. Guardate un po', sia le esportazioni a sinistra sia le importazioni sono diminuite parecchio e di conseguenza, insomma questo è un pessimo segnale per il commercio cinese, importazioni e esportazioni insieme che diminuiscono, vedremo che cosa succederà nel mese attuale, le previsioni sono comunque sia per un meno 1,3% per le importazioni annuali, per le esportazioni si prevede un più 7,3%, vedremo che cosa succederà, ieri è andato in onda un annuncio sulle tv cinesi, il cui messaggio era di un imminente accordo tra Stati Uniti e Cina, ad ogni modo l'accordo non c'è ancora stato, quindi probabilmente i dati saranno ancora molto vicini allo 0%, se non negativi, perché si riferiscono ovviamente al mese precedente. passiamo ora ai dati più importanti, scusatemi, agli strumenti più importanti della settimana abbiamo Eurodollaro che si muove sempre all'interno di questo range di prezzo, che da un po' di mesi ha ristretto il range tra 1,12 e 1,14, siamo sulla parte più bassa di questo range di prezzo, quindi opportunità di acquistare su questi livelli vicino al nostro livello di supporto a 1,12, lo ripeto, per cercare poi di vendere a metà tra 1,12 e 1,14, quindi verso 1,13. La nostra strategia ormai da diverso tempo è sempre quella di comprare quando il prezzo tocca 1,12 e chiudere a metà del range, oppure vendere quando tocca 1,14 e chiudere a metà del range. Se sta dimostrando effettivamente vincente in questo periodo, ovviamente lo stop loss nel caso di un acquisto vicino a 1,12 va messo appena sotto al minimo della candela precedente, ovvero in questo caso questo minimo segnalato il 2 di aprile. RSI che tira sulla testa è sempre sotto i 50 punti, siamo sui 43, però è ben impostato al rialzo, le medie mobili non si sono ancora girate, ma è normale all'interno di un trading range che le medie mobili non siano inclinate né da un lato né dall'altro, sono quasi piatte, guardate la media mobile quella di medio periodo è quasi piatta, quella di breve periodo è appena inclinata negativamente, ma non appena i prezzi dovessero tirare sulla testa, ecco che si metterebbe piatta anche la media mobile di medio periodo. Passiamo al Dow Jones che ancora una volta ci regala dei rialzi, il trend non è ancora finito, il nostro trend rialzista è evidenziato con la trend line in giallo, l'RSI ben al di sopra dei 60 punti addirittura, le due medie ben impostate, la media mobile a medio periodo sopra quella di lungo periodo, il prezzo che si sta comportando molto bene facendo segnare massimi e minimi rialzisti, siamo sopra la resistenza a questa di novembre 2018, sotto ad ogni modo ai massimi toccati qualche mese fa, vedremo se riusciremo a superarli oppure no, nel caso ecco dovessimo superare questi massimi è evidente che ci sarà un'accelerazione a rialzo. Questo livello ovviamente segnato tra il 3 e il 4 ottobre rappresenta un bel livello di resistenza, soprattutto perché guardate qua che cosa è successo, ancora più di un anno fa, gennaio 2018, anche in questo caso abbiamo un livello molto molto vicino, proviamo a mettere due linee orizzontali, uno in questo caso eccolo qua, qui c'è già, quindi abbiamo il nostro prezzo molto vicino a due livelli di resistenza molto forti, vedremo se riuscirà a superarli, ad ogni modo da oggi fino al livello di resistenza potrebbero esserci ulteriori rialzi, potremmo aspettare volendo il prezzo ancora più vicino alla trend line per riuscire a prendere un prezzo ancora più basso e cercare di portare il prezzo fino almeno al primo livello di resistenza. Passiamo ora al petrolo di cui vi parlavo prima, ormai è da un po' di settimane che lo ripetiamo, si sta muovendo all'interno di un bel trend rialzista all'interno del canale azzurro, settimana scorsa avevamo visto che era vicino alla parte più bassa del canale, quindi era anche un'ottima opportunità acquistarlo, in questo momento invece per chi avesse già la posizione aperta magari può ridurre la sua esposizione long perché siamo sulla parte più alta del canale azzurro, anche se effettivamente il momento del petrolio è veramente positivo, vi ho detto prima la notizia dell'OPEC è veramente positiva, l'RSI è oltre 70 punti, non va letta in ottica di ipercomprato ma è proprio un segnale di forza del trend, le due medie sono ben impostate, anzi stanno accelerando entrambe, quindi è veramente un ottimo segnale di continuazione del trend, vi ricordo che all'interno del canale il prezzo si può muovere ovviamente in basso e in alto, sarebbe bello acquistarlo sulla parte più bassa del canale, chi avesse ripeto la posizione già in portafoglio può decidere di ridurre, prendere profitto per ricomprare più in basso oppure mantenere la posizione aperta inserendo magari qualche target e qualche stop. Passiamo ora all'ultimo strumento finanziario l'oro, l'oro che ha visto nell'ultimo periodo un bel trend rialzista, siamo all'interno di questo canale rialzista, sui non far payroll l'oro è venuto giù fino a sfiorare la neckline di questo testa e spalle, guardate un po', spalla, testa, spalla, il che vuol dire che nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura giornaliera sotto la linea gialla, ovvero sotto la neckline potrebbero esserci accelerazioni a ribasso, questo vuol dire andare short? No, perché l'oro è all'interno comunque di un trend rialzista al momento, questo disegnato è un eventuale pattern in formazione che se non completato ovviamente non va considerato, anzi al momento l'oro è rialzista, il che vuol dire che le posizioni long sono da preferire, anzi siamo sulla parte più bassa del canale, questo vuol dire che ci dà un'opportunità di acquistare a dei livelli decenti e siamo appena sotto al livello 1300 che è un po' un livello psicologico, questo vuol dire che al superamento del 1300, ovviamente è difficile superare il 1300, ma al superamento del 1300 e una chiusura giornaliera sopra il 1300 potrebbe portare l'oro a crescere ancora un po' almeno fino al prossimo livello di resistenza ovvero 1320 dove abbiamo avuto questo massimo, se superiamo anche questo massimo, perfetto, vuol dire che l'oro è pronto per cercare il massimo precedente e poi ancora una volta per cercare nuovi massimi di periodo, se invece ripeto teniamo in considerazione questo livello di supporto, se dovesse essere rotto con una candela giornaliera molto forte ecco qui c'è la possibilità di una creazione di un pattern testa e spalle con la possibilità di un'inversione di tendenza e il prezzo che scende e vedremo i livelli nelle prossime settimane se dovesse succedere questo evento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che c'è la possibilità di iscriversi attraverso il nostro sito nella sezione formazione e poi webinar ed eventi, c'è la possibilità di iscriversi al seminario sul Delphic Fenomenon che è giovedì prossimo, è una strategia di uno dei trader americani più importanti al mondo che prevede l'entrata all'interno di una posizione quando si è in trend, quindi seguendo il trend, in una posizione quindi già di forza, però ecco sul ritracciamento momentaneo del prezzo, quindi vuol dire che ad esempio prendendo un trend rialzista il prezzo ritraccia un attimo rispetto ai massimi e andiamo a comprare su un livello più difensivo quindi non sui massimi, su un livello più difensivo seguendo però comunque sia il trend vi spiegherà comunque tutto il mio collega Mauro Mazzoni, basta iscriversi qui, registrati ora c'è la possibilità di seguirlo, registrandovi riceverete un'email un'ora prima dell'inizio quindi anche se vi registrate questa mattina l'11 aprile giovedì riceverete alle 4 di pomeriggio un'email con il link di GoToMeeting per poter accedere al seminario, alle 5 poi ci sarà il seminario vero e proprio. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona settimana Grazie.